proseguiamo tutte queste nostre munizioni proprio che ci escono dalle orecchie e qua c'è c'è roba che cade di nuovo giù io non ho voglia di cadere giù di nuovo faccio andare te e sono tentato di dirti attacca sciva lo sapevo bene quindi ok adesso c'è un quick jump aiuto no non fatemi fare queste cose no moriranno 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 tutti e due o morirà chris ancora jump 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 ok no no e ti tira su lei è tendata di culo soprattutto che io si è riuscita a premere quei due tasti contemporaneamente perché va bene buon tutto ok tutto a posto è bello come si guardano come per dire buon anche questa è andata santa pace ma dai non si può fare questa vita e irving abbiamo andato qua adesso te tira di là devi tirar di là brava tira ok bello che facciano queste cose senza chiedersi che cosa succederà e cosa succederà beh certo sì sì adesso arriva anche lara arriva anche nathan drake arrivano tutti a dire la loro su questa location ok siamo passati di sotto potevamo direttamente buttarci da lì non so ok dai prendiamo un po di cose brava no non pensavo facessi tu cos'è roba tira nei colpi del fucile non me li daranno mai più perché ho avuto l'ardire di togliermi la pistola e mettermi solo il fucile e quindi mi stanno ponendo proviamo prima ad andare giù di qua vedo cose colorate è una statua viola ok quella è una statua verde bene e già è già due colori li abbiamo li abbiamo visti poi gialla anche arancione quello che è e poi altro strano che non c'è il rosso qua possiamo anche scendere no dire di no allora riprendiamo la strada dove eravamo prima che non so perché c'è questa di qua non c'era niente ma cosa servirà ma quindi possiamo saltare di qua il campo ok altre statue da qua da questa visuale di altre stato e non l'abbiamo no forse su in alto in alto ma siamo scesi giù perché risalire su una volta che scendino c'è vediamo qua ok di qua se c'è roba da prendere prendiamola dai per favore fucile io ho un fucile in mano abbiate paziente ragazzi veramente o la magnum anche meno male si è dieci colpi di fucile me ne faccio nulla ve lo dico già subito ok di qua mi sono persa dove di qua no ma non c'erano due posti dove andare ma qua è chiuso e di la si va solo prendere la roba no allora dobbiamo scena di qua ok qui 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 ragazza seguimi forse no dove siamo e lì c'è la statua di qua non si può passare qua cos'è ho messo una corona ho detto ma magari c'è da vendere qualcos'altro c'è una statua rossa eccola di là vedete che c'è anche la statua rossa ma non possiamo saltare saltiamo dappertutto non possiamo saltare lì ma scusa di qua neanche dove saltiamo c'è un posto dove saltare non è possibile che non possiamo saltare no neanche qua ma io do per scontato che di non avere una mappa e invece ce l'ho davo per scontato male da ok c'è tutta una strada cui che possiamo intraprendere ero convintissima che fosse solo su in alto adesso arriveranno in massa i deficienti tutti uno dietro l'altro questo cos'è questa roba che si sposterà e cercherà di schiacciarci e qui ci saranno delle lance probabilmente che usciranno o no non so l'utilizzo della statua lo vedremo un'arma si un'arma questa è una lancia granate vero che sei un lancia granate quindi arriveranno cose brutte questo qua 12 ok aspetta no no un attimo perché queste hanno fatto bene queste cose qua perché tanto la magnum non mi date mai niente e quindi me ne dimentico faccio finta che non esista io non so perché ho comprato questo perché alla fine non serve a niente uguale all'altro praticamente e non è neanche potenziato quindi lasciamo perdere le mie intuizioni brillanti ok no get the other one cosa era solo c'è vabbè c'era scritto investigate ma non hai investigato niente come al solito chris non so cosa hai cercato di dirmi però va bene di là c'è quella rossa che però non ci arriviamo allora andiamo giù di qua a questo punto succederà qualcosa succederà qualcosa per cui dovrò prendere la mia il mio lancia granate vero cosa c'è di qua nulla roba brutta che sembra dover ah tu sei un pipistrello così pull ok ok lei è rimasta di là bene temo che sarà da fare in in ordine no va bene anche così ok ottimo bene no ero convinta che ci fosse un ordine da seguire mi sarebbe stato più difficile ok quindi abbiamo una strada verso la statua verde pensavo fosse questa la statua verde qua cosa c'è va bene adesso si scatenerà l'inferno guardate piano piano si scatena l'inferno mano a mano che andiamo avanti mi piace tanto sto posto vediamo se ci lasciano passare senza problemi qua c'è da pullare ancora puliamo dai ragazza l'altra forza e lo sai quello che devi fare sciva inutile che mi guardi adesso vediamo cosa ci deve schiacciare ok è tornato su bene sto andando un po caso però perché fino adesso ha funzionato e lì invece va giù e quindi andiamo verso la gialla arancione quello che è ok prendiamo il checkpoint quindi deduco che almeno ci evitano di rifare questo pezzo quando moriremo ma di qua non posso scendere non posso però potrei buttarmi giù mi sono buttata giù da posti peggiori non capisco figuriamoci sì 42 vabbè però scusatemi e adesso voi come fate ad arrivare qui a me non piacciono quelli in cappuccetti perché mi ricordano quello con la sede elettrica e quindi sì forse dovrei usare lanciagranate effettivamente avrebbe più senso perché cosa lo metto nelle shortcut a fare se poi dopo non ecco via eh sì non ho risolto nulla adesso mi copro qua dietro aspetta ma dai no aspetta tu ti devo beccare te devo beccare perché sei tu quello brutto no non ci credo ne ho già sprecati due ero meglio col fucile a questo punto no guarda cosa faccio così eh tu reload che io ecco questo se mi riesce guardate ma non è possibile eh ora finiti i colpi perché sono un imbecille no non è possibile che prove oddio mi sono sparata addosso da sola sì avrei dovuto immagino che avrei dovuto tenerle a queste cose sì immagino che in teoria servivano per dopo però abbiamo fatto una prova interessante guardate guardate non ne ha zecco una eh non ne ha zecco una solo se sono vicino a due centimetri forse posso sperare adesso vado dove c'è un altro aspetta perché ti ho visto ti ho visto e ti metto uh no così vicini però no così vicini no aspetta che vado a prendermi delle delle munizioni ce le avrò non ho più niente che che munizioni vuoi avere aspetta che faccio questa cosa qua beh passateci sopra te venite venite oh va che bello oh scusami scusami scevolo eh lo so già hai ragione ok no eh lo so anch'io aspetta ti do queste to eh dagliel ok altro e queste sono mie eh non abbiamo ancora finito perché li sento che arrivano eh dove? mi sa che ce n'è ancora qualcuno che ci spara da qua dal aspetta no dove è che erano di qua? da questa parte ehm no non è possibile ci deve essere ancora qualcuno senti la musichetta vabbè noi andiamo ehm ma no ma da che parte? seriamente? mi son persa allora andiamo giù di qua e prima venivano da qua magari ne arrivano altri e ci tocca ammazzarli no niente non c'è nessuno? ma no non è possibile qua no ehm eccoti eh mi sembrava strano i piedi eh ti ho messo in ginocchio perché c'hai quella cosa lì davanti eh almeno oh quando gli becco al braccino eh ancora i due ancora ce n'è un altro di là che ci tira roba stomp che se no questo si rialza mi dai i colpi del fucile? ah perché nice colpi del fucile ce n'è? niente 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 dai eh ok la musichetta non è finita quindi dobbiamo ancora avere a che fare con qualcuno che ci sta eccolo lì più vicino dovrei venire lo so perché adesso sbaglierò no? oh guardate finalmente ma dai dei colpi me li dovresti dare siete degli infami siete degli infami ok allora se io scendo di qua eh e poi vado su di qua eh vabbè una l'abbiamo trovata dai qualcosa deve pur fare questa se pulliamo no? dai pull dai ragazza su ah l'altra è lì vicino quindi quella mi sa che dobbiamo di nuovo fare il giro uno da una parte e uno dall'altra vediamo perché potrebbe succedere di tutto anche adesso eh tipo un boss con tutte le munizioni che ho che sono tantissime vabbè il checkpoint mi fa piacere di qua tu vai dall'altra parte mi sa perché mi sa che questo è da una parte e dall'altra jumpa no? ce n'è uno solo? mmm oh dobbiamo cercare la catena per ma e poi come la infiliamo su? non c'è il braccio? ma vabbè e adesso? va bene dai andiamo a cercare eh temo che dovremmo scendere perché quella freccina lì gialla mi sa che è giù ok dai scendiamo e vediamo dove ci porta qua ok qua è tutto chiuso dobbiamo andare per forza di qua e continuano a non aver colpi ragazzi continuano a non averne ecco sì bene continuiamo ad avere sempre gli stessi quelli magari saltano giù da lì eh ah ok questa è da pullare no però direi che no scusami ah l'ha fatto? oh bene ero convinta di aver fatto una cazzata vabbè magari l'ho fatta però perlomeno perlomeno questo è fatto adesso dobbiamo oh non so se ho scatenato qualche altro inferno di cui non ero conoscenza vabbè dai cerchiamo di liberarci di questi ok e questi sarà più difficile perché come cavolo faccio a farvi tutti fuori eh non ho più niente aspetta ti metto questa qua toh metti qua e vieni 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 no non tirare però quella non vale eh vedi eh ci avete ragione no perché ma se sto puntando il fucile mi lasci puntare il fucile oh qualcuno ci ha finito su con la bomba eh infami eh qua eh no ok no che cosa mi hai dato ma non mi serve non è niente vabbè top no perché la granata mi fa sempre quell'effetto lì subito del dover sbagliare per forza il colpo quindi eh questo qua dai eh così mi spiace no queste sono sue dagliele allora aspetta aspetta che ci organizziamo devo prendermi i colpi del fucile ok ah ce n'è ancora una era finita la musichetta però non è possibile sta cosa eh sì buonanotte eh ragazzo mio quanta 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 foga eh ancora sei vivo sì ancora vivo sì prendile tu tanto lei non ce l'ha questo eh ci dobbiamo curare ragazza eh io non lo so io un ovetto te lo chiederei per simpatia non si sa mai teniamolo lì allora ricarichiamo e adesso vediamo dove cacchio dobbiamo andare perché io non ho guardato bene eh da dove quindi era sotto il braccino da tirare ma pensa a te che genialata no va bene allora vabbè lì c'è un po' di roba da prendere direi di prenderla perché si è messi malissimo e poi cerchiamo di vedere dove dove porta il resto cosa hai preso d'altro sceva sai cosa no vabbè tanto non ho spazio per niente quindi lasciamo stare di qua di qua cosa c'è non si sale su mi son persa qualcos'altro ma quella statua lì l'abbiamo tirata noi questa di no tiriamo anche questa e scateniamo un altro inferno via speriamo che sia l'ultima perché lei era così indietro cosa stavi facendo vediamo questa è rossa non è bella da tirare vediamo che che shagur porta l'ultima shagur finale sarà un boss come minimo no ah ok è proprio la cosa le troverò con le scale ma chi può dirlo ciao prendiamo questa intanto e adesso aspetta aspetta che vedrai cosa succede vedrai oh pensa pensa è finito qui sarà lo stesso no sarà lo stesso che è finito qui io avevo delle bombe di prossimità che avrei potuto usare in questo caso e purtroppo le ho usate in un altro modo bello va bene andiamo a cercarci un posto dove fare questa battaglia shah eh seguimi perché se no è un casino chissà se posso uscire facendo finta di non di non averlo visto io penso di sì dai possiamo uscire così facendo finta che lui non esista perché non ho colpi essenzialmente per quello vorrei eh no uh dodge 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 no non ho doggiato mi sa che non ho doggiato mi ho doggiato per niente proprio però me l'hanno detto in ritardo quindi abbiate pazienza vediamo dove era il checkpoint il checkpoint era prima della statua rossa vero mi sa che era prima della statua rossa vabbè vediamo se riusciamo a no scusate scusate ma io devo fare questa cosa devo vedere se tolgo la magnum per ora perché non mi date mai i colpi magari se la tolgo me le date i colpi e voglio provare ad andare così voglio provare a vedere se con il lancia razzi ok allora posso si aspetta lo equippo adesso guardate che sbaglio eh però mi fa ridere questa cosa voglio provare appena ce l'ho davanti gli sparo con il lancia razzi voglio vedere cosa succede dai consumiamo tutte le armi così eh ti è piaciuto un pochino si però non è abbastanza quindi credo che comunque dobbiamo andarci magari non era necessario magari essenzialmente quello che dobbiamo fare è proprio doggiare cosa che non ho fatto io perché lui ci segue quindi secondo me ho sprecato un colpo per niente però fa niente dai è stato divertente magari no magari c'è da combatterlo veramente adesso seconda cutscene dai ok doggiamo 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 dai 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 bravi ragazzi lui rimane lì ah ecco vedete che ho sprecato un colpo per niente del mio lancia razzi faccio prima a comprarmene uno nuovo di lancia razzi direttamente ma che bello però dai sono contenta adesso abbiamo finito un capitolo immagino no perché sarebbe bello che bell'accento chi sei anche tu ti inietti quello è Wesker che continua a iniettarsi porcherie via oh va che bello sì però non sei diventato come i miei mi esiste su alcuni su altri meno ok occhio perché t'ammazza subito sì di solito fanno una brutta fine tutti i suoi partner mi sa di no quest'uomo tutti i problemi che dà oh ma è old friend di chi perché mi sa che quello è Jill non so perché ho questa idea no allora sta parlando di lui sì è un suo vecchio amico dobbiamo giocare l'uno assolutamente come tutto è inizio continuo a a posticipare perché di quello mi lamenterò parecchio soprattutto del sistema di inventario ah guarda questa scena l'abbiamo cioè avevamo visto il finale di questa scena poi sono arrivati Chris e Jill eh beh sì Spencer eh qua è dove lo combatteremo porca miseria già sono nervosa ok bene dai sì io avevo preso da adesso me ne libero perché oggettivamente non è stato molto utile ah ecco no 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 non ho neanche bisogno di liberarmene perché vedete me l'ha tolto da qua perché una volta che lo spari lo devi ricomprare vabbè ho speso soldi per nulla va bene fa niente non importa adesso vendo tutta sta roba qua bene e uh queste si possono comprare invece bene molto bene assolutamente sì ma anche queste prenderei tutte le prendo aspetta flash no flash non mi servono preferisco le le explosive sì prendiamone due di queste ok così ne abbiamo 24 e mi sento più tranquilla a Chris mettiamo qua quelle le lasciamo fuori no però queste me le dai sì 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 ok va bene però adesso lasciamo così guardiamo come comincia il capitoletto nuovo e siamo abbastanza forniti ma neanche tanto perché io sbaglio assolutamente la mira però ah ok non abbiamo ancora concluso con quest'area va bene d'accordo allora tocca andare a vedere che cosa dobbiamo combinare no userai questo di fucile perché l'ho un po' migliorato spendendo un sacco di soldi tra l'altro ancora vi bruciano i soldi che ho speso per per prendere quel lanciarazzi che probabilmente servirà per Wesker quindi adesso metteremo da parte altri 10.000 cosini per per comprarne un altro vabbè qua ci sono pipistrelli io non so bene oh wow ma bella atmosfera da dove viene quella luce lì brilla di luce propria cos'è no è aperto no non lo so non capisco ecco qua mi puzza di puzzle vediamo vediamo cosa ci chiederanno di fare aspettate che apro la mappa ecco sarà da mettere qualche schifezza qua no sì bene quindi li dobbiamo cercare questi items ok va bene andiamo giù qua prima no forse meglio seguire il giallo vediamo ah ok figuriamoci eh sì beh certo urla pure quanto vuoi cosa cosa ci ah aia ahia quello fa male e adesso e adesso dobbiamo stare attenti anche che ci ecco che quello ci venga sì impressive si sono anche ammazzati da soli quindi quella cosa mi fa piacere però adesso di qua è difficile passare quindi corriamo via veloci ok vieni vieni ragazza eh cioè vabbè che non so se tu ti fai del male però quindi di là adesso abbiamo difficoltà passare giusto ok proviamo a scendere di giù andare giù di qua tanto ovviamente se ne inventeranno un'altra ora che sicuramente non mi piace tutto col cappellino perché è sempre difficile farvi del male oh ma perché ti giri io ancora questa cosa la devo capire perché si gira perché si gira va va e non da neanche colpi che miseria una tragedia è successa una tragedia aspetta partner prendi questo prendi se cose no non può ah già è vero ma non c'è la pistola ma che so scema sì eh lo so scusami però sto cercando di di fare del mio meglio sto anche vorrei anche capire se ma cosa fai tu vorrei anche capire il eh ma ho preso delle sì queste non mi servono niente vorrei anche capire sto cavolo di laser come come agisce perché se ce lo ritroviamo all'improvviso spararci addosso è una morte sicura proprio fissa ok questo lo posso prendere giusto spero me lo mette lì ok perché nell'inventario non ho spazio nemmeno a pagare proprio infatti neanche a pagare potevano mettere in resident evil 4 come visto che sto seguendo il vedete questi cosi qua io non capisco se li posso prendere o no e dicevo in resident evil 4 c'è la possibilità di prendere anche dei dei cosi per degli slot in più quella era una cosa utile da da poter acquistare e invece qua c'è che usiamo questa così esatto beh vediamo se almeno serve un po' tu sei uno di quelli brutti e cattivi di tanto tempo fa che mi hanno dato il gioiello azzurro che non serviva niente proprio ecco si fammi sprecare qualche altro uh ok sei liberata la bestialata poi porca miseria non c'è verso di ammazzarlo non c'è verso di ammazzarlo e adesso no 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 lasciami passare aspetta ecco quelle le avevo prese aspetta 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 ma perché si sono tutti avventurati da questa parte io vi manderei dove c'è il laser sarebbe bello ma sì ma poi figuriamoci un po' se senti facciamo così guarda perché mi avete proprio rotto le palle guarda un po' ah ancora ancora il gioiellino va bene no non lo uso il lanciagranate per te adesso aspetta che mi prendo la mira un attimo e ti ammazzo oh basta musichetta finita ok perché stavo cercando di capire che cosa dovevo fare qui in residente 4 dicevo c'è la possibilità di sparare alle cose e no ma non posso mica spararti questo dai è una cosa orribile che sto per fare ma io devo vedere se è così ok no era solo proprio da no niente dovevo provare era una cosa necessaria ok va bene niente questa cosa l'abbiamo fatta con un po' di sofferenza adesso andrei avanti ma questo qua lascia sempre giù roba ed è anche brutto da vedere poi rimane qua così ok quindi adesso io andrei no qui c'è tutta acqua tutto brutto non so sinceramente qua è chiuso però andiamo a prenderci munizioni non so se abbiamo cose per curarci forse un ovettino del cavolo questo continua ad andare avanti a fare il suo lavoro vero? è vero o no? ok ah ok quindi posso passare da un da un posto all'altro eh ma anche se preparo la la pistola non non mi cambia niente io temo fortemente che sia una morte certa però proviamo così ok speriamo che lei ci venga dietro senza senza far danni ragazza stai dietro così brava ok proviamo ad andare qui ah qui c'è un posto ok più sicuro no devo vedere aspetta ragazza fammi vedere se qua c'è un posto dove infilarsi è un posto dove infilarmi non so mica tanto convinta io ok no eh sì ma devi venire qua dentro sceva eh eh brava genio genio che sei qui no non si può non si può non si può andiamocene andiamocene non si può vieni sceva sceva no allora dobbiamo ritornare di là via spostati ok qua ne mettiamo uno almeno c'è un checkpoint e questo sono sicura perfetto adesso c'è da andare di là e ne attiveranno un altro sicuro senza alcun dubbio tipo questo esatto vieni sceva dobbiamo fare sto lavoro anche di qua purtroppo eh ma come dove dobbiamo andare c'è un posto dove infilarci lì sì lo vedo dalla mappa ci dovrebbe essere proviamo ad andare qui esatto e poi dove lì dentro ci si può infilare ah sono tutti i buchi vieni qui sceva mamma mia che fastidio sta ragazza sembra che te lo devo dire io ok sì quelli sono buchi quindi posso infilarmi dai posso andare qui sicuramente uno qui sceva però però infilati perché non hai più non stai più bene ok bom allora un altro checkpoint ottimo eh te pareva cinque colpi cinque colpi eh e questi arrivano questa sta qua a farsi cazzi suoi ah brava sceva poi volevo guardare cosa faceva ma tu l'hai ammazzata troppo presto cioè io alla fine userò lanciagranate eh ve lo dico perché mi sto stufando di questi imbecilli e ma perché ha fatto sta chiazza rossa è nuova questa non facevano la chiazza rossa prima oh non ho più no è lo sprecato sono stata troppo veloce no ma non servono a niente non è utile che gliele fai presenti io dovevo ridargli alla pistola sono stata stupida no no ragazza usiamo questo per forza eh che devo fare purtroppo li ho comprati apposta dai ancora un altro vai tu prova se ce la fai facciamo così se no entro in gioco io aspetta che vedo se ce ne sono ancora di qua ah beh c'erano vado a prendere qua uh questi mi piacciono aspetta aspetta che questi mi piacciono e come faccio a prenderli ah no ti rido questa esatto questa è stata bella e altri lì dietro oh va che bello si è una soddisfazione guarda me ne frega di quanti mi sto consumando ma è una soddisfazione non saltare non saltare che ti becco subito ok perfetto qua c'è altra roba si questo mi interessa queste si si no mi serve questa te la do a te ah me l'hai usato subito così va bene alle caviglie perché se no non riesco a farti cadere dai via di nuovo le caviglie poi altro c'è altra gente mamma mia ma quanti siete seriamente ma quanti siete oh ok no 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 non me ne ero accorta di questa cosa ce n'è uno anche lì di laser ok prendiamo questo sì l'emblema della terra ok no no mannaggia chi è che mi sta sparando dietro no scappiamo ah è lui è quello lì ok sì c'ha questa balestra qui che forse l'abbiamo finita questa storia mamma mia che sofferenza adesso non so più dove era il laser e dobbiamo curarci ragazza no non no mi sa che mi curo solo io mi dispiace perché tu non hai più niente porca miseria ma davvero 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 oh siamo messi malissimo siamo messi di un male che fa quasi compassione guardarci poveri noi no dammi qualche granata dammela perché non le usi eh non le usi mai ragazza oh è vero che tu c'hai anche queste da darmi te facciamo così e boh per adesso proviamo così e a te questi non servono sì no che ti servono veramente ti avevo lasciato la pistola allora allora mettiamoci contro un muro e vediamo fin dove dobbiamo arrivare non ce la facciamo a tirar fino a lì dobbiamo scappare veloci veloci proviamo dai pronti via sceva no porca vacca mi sono partita troppo tardi vabbè ce l'abbiamo fatta dai sceva qui 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 no ragazza sei troppo fuori non farla scema adesso dove dobbiamo andare ma un buco ce l'abbiamo un buco da qualche parte no aspetta diventa complicato sto pezzo perché non so quando ah ok qua vieni vieni sceva vieni sceva porca miseria lei è complicatissima da da accettare ah ok parte da lì e poi fa tutto il pezzo va bene ok devo nascondere qua dietro ok un altro checkpoint ottimo e adesso no c'è posto di qua ok quindi posso prendere roba ma forse queste dovresti prenderle tu ragazza però mi sa che non hai più spazio si ce l'hai ce l'hai ok ottimo qua cosa c'è di bello ah roba per guardare per uccidere la gente bene così ah abbiamo tolto il laser era bello questo pezzo che era fatto apposta non mi è servito neanche il fucile di precisione guarda un po' quanto sono brava bravo e chi è che sta ancora lavorando di là spero non qui ok qua possiamo passare eh vagamente no non proprio tanto no mi sa che dobbiamo ammazzare anche l'altro potremmo morire potremmo in effetti morire ehm ah fino a qua arrivate ma come fate ad arrivare fino a qui ma posso buttarmi giù di là ma provo eh ok eh si ma ogni volta no non posso buttarmi giù di là aspetta no no vieni qua perché non possiamo buttarci giù di là ok eh ma lei si mette sempre in mezzo alle palle e quindi è un casino ce la possiamo fare dai no cazzo ce l'avevo fatta ce l'avevo fatta cacchio ero qui abbiamo anche un'erba guarda abbiamo anche un'erba eh ma non vale ma dappertutto sto cazzo di laser è dappertutto eh perché devo beccare quello lì che che lo spara e non so da dove aspettate un attimo che vediamo se lo trovo sto disgraziato dov'è da dov'è che lo manovri parlo che miseria no non vedo no non vedo against wall ok eh fin dove arriva dappertutto arriva però ma dove posso infilarmi lì non sono mica tanto convinta però proviamo andiamo veloci veloci un checkpoint quindi qualcosa di buono devo averlo fatto ok qua si prende le tu eh ok qualcosa l'abbiamo risolta nel senso che almeno siamo qui al sicuro solo che eh non è certo questo il posto dove stare eh dov'è dov'è il tizio che manovra la schifezza ce n'è uno qui si ce n'è uno qui adesso aspetta che prendo il fucile di precisione e ti faccio saltare per aria uno ah eh che cavolo allora ne è rimasto uno uno stronzo è rimasto per la nostra gioia eh uso questo se dovesse avere problemi ok quindi devo andare là dove c'è il giallo però non mi fido ce n'erano due funzionanti e quindi ho paura che adesso qua sotto ma forse deve andare lei boh vai io ho provo ad andare dall'altra parte eh ok eh credo che tu abbia dei problemi seri spero che tu non abbia bisogno d'aiuto perché devo andare io devo andare di qua ahia le sta prendendo però parca vacca no le sta prendendo devo aiutarla se posso devo aiutarla eh sì lo so aspetta adesso ti aiuto non è proprio così che volevi essere aiutata però però insomma ci ho provato dai abbi pazienza è così ah l'ha preso lei ottimo adesso come fai a ritornare indietro boh ci organizzeremo in qualche modo adesso che lei ha preso quello mi sa che succederà l'impossibile e quindi ma come faccio ad arrivare lì sopra eh mi sa che devo prendere delle scale che non ho visto da nessuno uh vaffanculo e adesso e adesso adesso sto malissimo aspetta aspetta uno e due perché tu sei cattivo e ce ne vorranno anche tre o quattro di questi vediamo se riusciamo con le granate a farti fuori ma non ne frega niente di usare le granate guarda non è un problema le uso anzi mi serve l'erba aspetta prendi la ragazza e aiutaci esatto no non sto bene per niente che brutto momento ok ok anche questi da vendere per prenderci un altro coso di un altro spara spara cos'è che mi ah di andare no quello non mi serve più ormai dovrebbe essere finita sta storia no io devo trovare il modo di riprendere la scala principale e di andare su di là come faccio ad andare là ah aspetta intanto prendiamo questi due cosi che ormai serve tutto qui no queste soldi ok dobbiamo ah vabbè ma che scema certo devo andare a mettere i due emblemi qua per forza non si apre la porta lì perché succederà qualcosa quando metterò sti due cosi che svampita dai qua almeno abbiamo dei checkpoint dopo tutto quello che abbiamo fatto ok bene adesso adesso devo prendere di nuovo il lanciagranata ah no ce l'ho già ok aspetta che lo ricarico sarà meglio sarà meglio ok andiamo qua c'è c'è roba da prendere è perché dobbiamo stare attenta ragazzi qui nemmeno ma ci fanno uscire così boh io non sono mica tanto contenta cioè no sono contenta ma non sono contenta di quello che abbiamo messo da parte ma da un po' tutto questo pezzo delle catacombe è fatto senza senza armi decenti senza munizioni perché le armi che ho voglio dire dovrebbero essere usate in altri contesti oh c'è un sorpente va bene grazie